Benvenuto a questa meditazione guidata, mettiti in una posizione comoda, sdraiato sulla schiena oppure seduto su una sedia. Le tue braccia appoggiano morbide ai lati del corpo, i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. Chiudi gli occhi. Inizia a respirare dal naso, mantieni un respiro leggero. Non forzare la respirazione, lascia che sia naturale e mantieni la tua concentrazione sulla respirazione. Senti l'aria che entra e esce dalle narici. Se vuoi, puoi mettere una mano sull'addome per sentire il tuo respiro. La sensazione del rilassamento profondo ti è molto familiare, permettiti di ricordartela. Ora, ispirando ed espirando, prendi consapevolezza di tutto il tuo corpo. Percepisci le parti che sono in contatto con il suolo. Senti i talloni, la parte posteriore delle gambe, i glutei, la schiena, il dorso delle mani, le braccia e la parte posteriore del capo che tocca il suolo. Con ogni respiro ti senti affondare sempre di più nel pavimento. Avverti che tutte le tensioni e le preoccupazioni ti abbandonano. Abbandona ogni peso e non trattenere nulla. Ora, lasciati affondare sempre di più al suolo. Ispirando, percepisci come l'addome si solleva. Ed espirando, senti come si abbassa. Per alcuni respiri, ora puoi rimanere concentrato sull'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. Inizia a contare i tuoi respiri. Arriva fino a 10 e ricomincia a contare da capo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mantieni la concentrazione sul tuo respiro ancora per qualche minuto. Mantieni la concentrazione sul tuo respiro. Visualizza, ascolta e osserva il tuo respiro. Inspirando, prendi ora consapevolezza dei tuoi piedi. Inspirando, lascia che si rilassino completamente. Inspirando, invia tutto il tuo amore ai piedi. Inspirando, sia adesso consapevole delle tue gambe. Inspirando, lascia che ogni cellula delle gambe si rilassi. Abbandona ogni tensione che potrebbe essere ancora rimasta nelle gambe e permetti che affondino morbide al suolo. Inspirando, invia tutto il tuo amore alle gambe. Con l'ispirazione, ora prendi consapevolezza delle tue mani. Con l'ispirazione, lascia andare ogni tensione che potresti ancora trattenere in esse. Prendi coscienza allo stesso tempo di ogni singolo dito della mano sinistra e di quella destra. Il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Senti la gioia di avere due mani e lascia che ogni loro cellula si rilassi. Inspirando, prendi ora consapevolezza delle tue braccia. Inspirando, lascia che queste si rilassino a fondo. Lasciale riposare completamente sul pavimento. Ad ogni respiro, senti come le tensioni negli arti si sciolgono. Visualizza l'aria che entra quando inspiri, rinfresca il cervello e esce quando espiri. Se arriva un pensiero, torna a concentrarti sul tuo respiro. Spirando, passi motore. Spirando, passi motore. Adesso che sei quasi alla fine di questa meditazione, inizia lentamente ad aprire gli occhi. Unisci i palmi delle mani davanti al tuo cuore. Namaste